The New Stories. La tua informazione libera. L'avvocato, che poco prima stava sorridendo e ballando con gli altri ospiti sulle note delle cantanti Paola e Chiara, ha perso conoscenza tra le braccia di un altro partecipante. Non ha più ripreso conoscenza e il suo decesso è stato dichiarato sul posto. La salma è stata riportata ieri a Modena e questa mattina si sono svolti i funerali presso la Terra Cielo Funeral Home. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.